Anche la Polizia di Stato ovviamente collabora per garantire la sicurezza al mare, ma è chiaro che la sicurezza per la Polizia di Stato va intesa non soltanto al mare ma anche a terra ed in particolare la si estende anche alla salvaguardia dei bagnanti che vengono fatti anche oggetto sul litorale di scippi, furti e quant'altro. Alle porte dell'estate questa attività risulta ovviamente intensificata, è una stretta collaborazione con gli uomini della Capitaneria di Porto. Ma la Polizia di Stato con particolare riferimento alle squadre nautiche che garantiscono questo settore della sicurezza collaborano in assoluta sinergia con il personale della Capitaneria di Porto. La collaborazione è chiaramente ancestrale da quando esiste il Presidio di Polizia e la Capitaneria di Porto su questo territorio ed è chiaramente, diciamo, continua ad esserci per tutte le stagioni estive come per gli altri anni anche chiaramente per quest'anno e verrà potenziata in ragione delle risorse di cui dispone.